Eccoci arrivati al secondo appuntamento sui pensieri camperanti. Ci siamo lasciati venerdì scorso con un compito che ti avevo affidato ed era quello di osservare, di ascoltare, di andare un po' a scavare dentro di te per vedere quale poteva essere uno di questi pensieri camperanti che in questo momento sta limitando i tuoi risultati. E abbiamo detto, avevo fatto un esempio della persona che non riesce ad avere la sufficienza in matematica o nelle lingue o in qualsiasi materia. Vediamo un po' in sintesi perché se hai trovato e ti sei reso conto che c'è un pensiero, che c'è un tuo modo di essere che ti sta limitando, significa che hai già praticamente risolto la questione. renderti conto che dentro di te c'è un pensiero, c'è una convinzione che ti sta limitando, la consapevolezza di questo fatto significa che sei già arrivato a metà della soluzione. perché quando non ci accorgiamo che dentro di noi ci sono dei pensieri che stanno camperando, che sono fermi, non riusciamo a fare nessun tipo di cambiamento. e quindi essere consapevoli che c'è dentro di me un pensiero, un'idea, una convinzione che mi sta limitando, significa avere già trovato buona parte della soluzione. Il cambiamento personale, il cambiare questi pensieri, queste convinzioni limitanti, parte proprio dal fatto di rendermi conto che io ho una convinzione di questo tipo. La consapevolezza è fondamentale. Dopodiché ti avevo chiesto anche di andare a vedere come mai vuoi fare questo cambiamento. Questo è importante perché se io mi accorgo di avere un pensiero camperante significa che voglio qualche cosa di diverso, ho dei desideri diversi, voglio avere dei risultati diversi e li voglio perché li sento, li desidero, perché voglio avere una vita migliore, avere un... a spostare più in là questi limiti che mi sono praticamente creato da solo. Dopo aver fatto questo, naturalmente, è importante che tu definisca bene cosa vuoi al posto di quel risultato. O quattro in matematica, o cinque in matematica, o due in inglese. Vedi, cosa voglio al suo posto? Quindi avere un'idea di che cosa vuoi. Nel momento in cui hai fatto questi passi, sei pronto per cambiare. Sei pronto per cambiare il tuo modo di... E come sarà mai questo cambiamento? Allora, ieri, al termine della puntata, della seconda puntata sullo sviluppo personale, ti ho mostrato come attraverso un esercizio tu puoi andare a modificare alcune idee che tu hai. Bene, oggi ti dico che se tu compi, se tu porti a termine questi passaggi, diventi consapevole, ti chiedi come mai, quindi qual è il beneficio che tu hai finora ricavato dal fatto di essere, di avere questa idea che ti protegge, che ti fa fare determinate, ti fa tenere determinati comportamenti, ti fa fare determinate cose. Cosa ne hai guadagnato? E a volte non è bellissimo accorgersi del perché facciamo determinate cose, cosa ci guadagniamo, da cosa ci protegge, però è importante che tu faccia questo passaggio. Entra dentro e comincia piano piano a capire il perché questo limite in un qualche modo ti protegge. Una volta che hai fatto anche questo secondo passaggio decidi cosa vuoi. Voglio avere la sufficienza in matematica perché penso di valere, di essere in grado di, quindi c'è tutto. Che cosa devi fare? La cosa più semplice del mondo, cambiare il tuo modo di apprendere. Fare la pace con questo pensiero camperante significa semplicemente fare in un modo diverso. Ti ho proposto in tante altre puntate il sistema di studio studente vincente, il sistema di studio che io ho ideato e è un sistema che tiene conto di chi sei. Io ti propongo delle cose, ma se hai delle insufficienze in qualsiasi materia o il tuo piano di studi non funziona o non hai più voglia di stare sui libri o ti dici non mi piace studiare, sicuramente ci sono dentro di te delle convinzioni che in questo momento ti stanno frenando, ti stanno limitando, ci sono dei pensieri camperanti dentro di te. Vuoi cambiare la situazione? Vuoi avere risultati diversi? Vuoi gioire del fatto di imparare? Vuoi davvero toglierti tutti questi limiti che situazioni della tua vita ti hanno portato a ritenere come dei tuoi modi di essere? Io sono fatto così, quindi non ci posso fare niente. Io sono fatto così, quante volte lo sento dire dagli studenti, ma io sono fatto così e quindi? Quindi in questo momento ti stai limitando. È vero che sei fatto così, ma è anche vero che puoi essere ciò che desideri diventare. E come faccio? Mettendo convinzioni diverse che vengono dal fatto di sapere che io posso fare anche altre cose. Quindi l'invito che ti faccio poi magari possiamo vedere insieme prossimamente anche un esercizio perché ti possa aiutare comunque a spostare questi pensieri e comunque a far sì che tu riesca a spostare un po' più lontano questi limiti che ti sei fatto. Ma la cosa che ti chiedo è davvero lavora su questo fatto. Lascia stare tutto quello che c'è stato finora. Prendi questo momento in cui siamo in casa, si sono fermate le cose, prendilo come la più grande opportunità della tua vita. Ogni cosa che succede nella vita delle persone ha un senso, ha sempre con sé un messaggio. Questa situazione è un messaggio per ognuno di noi, anzi ti dirò di più, ha più messaggi per ognuno di voi. Prova però ad ascoltare. Non scappare. C'è qualcosa che non va nella tua vita? Non riesci ad essere soddisfatto bene? Guarda che cos'è. Non scappare. Guarda che cos'è. Renditi conto che sì, in questo momento nella mia vita sto tenendo determinati comportamenti. Benissimo. E allora nel momento in cui tu lo riconosci, si apre l'universo di fronte a te. Perché tu puoi cominciare a dire, ma io questa cosa, ok, la faccio, la faccio per questo motivo, va bene, ok, bene, l'accetto. Mi è servito. Sono arrivato fin qui perché sono stato quel tipo di persona, ho fatto quel determinato tipo di azioni, bene, ma da questo momento in cui io decido che voglio altro. E come faccio a volere l'altro? Intanto lo decido perché molte volte il cambiamento, gli obiettivi non si raggiungono perché non so come voglio andare. Non mi sono creato nella mente dei presupposti attraverso i quali poter raggiungere quell'obiettivo. Nel momento in cui hai fatto questo percorso, dopo non ti resta altro che agire. E agire è fai cose diverse rispetto a quelle che hai sempre fatto. E' inutile che se prendi quattro in un compito di matematica tu continui a studiare nello stesso modo, ad approcciare quella materia nello stesso modo. Non è aumentando il tempo che raggiungi il risultato, ma è cambiando la tua modalità. Ma se tu davvero hai studiato e non riesci ad arrivare alla sufficienza o prendi quattro, significa che il tuo modo di apprendere è sbagliato. Smettila di dire che hai ragione. Non è aumentando il tempo. Riflettici. Allora, se io passo dieci ore perché mi preparo sulla verifica il giorno prima e poi la verifica non funziona, significa che quelle dieci ore non mi servono a nulla. Io ho bisogno di fare un lavoro più progressivo, che sia prestare più attenzione mentre sono in aula, cominciare a farmi un sistema di parole guida, di esercizi guida, di ripassare determinate argomenti con una scaletta ben precisa, di avere dei tempi di studio, di trovarmi un luogo importante a casa mia, non come un viandante. Molte volte non riusciamo ad applicarci nello studio proprio perché non stiamo in un posto di potere, perché non stiamo bene, perché ci sentiamo in prestito, perché finiamo di fare una chat che dura da un'ora o perché stiamo facendo un gioco come videogame, spegniamo, abbiamo la pretesa che il nostro cervello si metta lì, gli diamo un quarto d'ora e vogliamo che in un quarto d'ora faccia tutto. Impara a volerti bene, a darti valore. Questo ti porterà a cambiare qualsiasi situazione, a demolire piano piano quei pensieri camperanti che ti stanno in questo momento limitando, che non ti fanno avere i risultati che desideri, il successo che vuoi, il benessere che vuoi. Bene, io colgo l'occasione per augurarti una serena Pasqua, ti do appuntamento a martedì della prossima settimana e ti auguro ogni bene, soprattutto di diventare un demolitore di pensieri camperanti. Fabio Peretti, Associazione Il Faro di Savignano sul Panaro, studiamo insieme. Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.